Benvenuto nella sezione MyRay Tutorial. Vediamo come utilizzare lo strumento comunicativo di OrtoSimulation nel software MyScanConnect. Selezioniamo il caso clinico da sottoporre al tool di simulazione e avviamo l'applicazione OrtoSimulation attendendo l'elaborazione dei dati. Il software metterà a confronto il modello studio ed il modello risultato dalla proposta ortodontica. Possiamo selezionare una singola arcata, ruotarla ed ingrandirla facendo automaticamente le stesse operazioni anche sul modello virtuale. Questo agevolerà il paragone tra le due situazioni e consentirà un'elevata comunicazione medico-paziente. Nella parte superiore dell'interfaccia possiamo cambiare la modalità di visualizzazione e creare automaticamente un video con gli spostamenti necessari durante il trattamento. Per altri tutorial o maggiori informazioni vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale MyRay.